Punti salienti e fatti interessanti. Gatto Korat è stato scoperto a Dampur Pimai, nella provincia di Gatto Korat in Thailandia. La prima testimonianza conosciuta del Korat, appare nel Cats Book of Poems o Smudoi of Cats creato durante il periodo Ayudya nella storia siamese. Questo libro presenta 17 gatti portafortuna dalla Thailandia, incluso il Gatto Korat, ed è attualmente ospitato nella Biblioteca Nazionale di Bangkok. Gatto Korat ha un colore unico identificato come blu con una punta d'argento che gli conferisce una lucentezza scintillante. Il colore assorbe la luce creando un effetto alone. È un pelo corto, a tinta unita e aderente. I loro capelli non sanguinano quando vengono stirati, motivo per cui la maggior parte delle persone con allergie ai peli di gatto trova sopportabile la loro vicinanza. Le radici sono più chiare, il colore aumenta man mano che la tonalità aumenta lungo lo stelo fino a raggiungere un blu più profondo fino a raggiungere le punte, che diventano argente. La punta d'argento è più comune sul viso e sulle dita dei piedi. Il gatto Korat è disponibile solo in blu con punta argento. Il gatto Korat ha un'esclusiva struttura della testa a forma di cuore. In totale, cinque cuori sono associati a Korat. La testa contiene tre di queste forme di cuore. Guardando direttamente Korat, vedi un cuore a forma di San Valentino. Il secondo cuore può essere trovato guardando sopra la testa di Korat, e il terzo cuore associato alla testa è il naso. Il quarto cuore si trova nella zona muscolare del torace quando il gatto è seduto. Un altro cuore dentro un gatto. Man mano che Korat invecchia, la forma del cuore diventa più prominente. Il corpo di Korat è semicircolare, si assottiglia verso la vita. Non sembrano grandi, ma sorprendentemente grandi. Sentirsi come una molla ben arrotolata. La maggior parte del peso, viene portata in avanti sulle spalle rotonde, ben sviluppate e muscolose. Il collo è piuttosto corto e pesante, connesso ad un ampio torace, e le spalle sono leggermente più larghe del torace. Korat possiede capacità straordinarie per l'udito, la vista e l'olfatto. Formano forti legami con i loro ospiti, e rispondono calorosamente agli abbracci, sedendosi il più vicino possibile. Sono molto attivi nel gioco, ma affettuosi con i bambini. Il gatto Korat è il gatto che più si avvicina al suo aspetto originario, più di ogni altra razza. Confrontando Korat dalle prime immagini ad oggi, difficilmente si nota la differenza nei gatti. Storia della razza. Korat è apparso per la prima volta in Gran Bretagna con il nome di gatti siamesi blu nel 1889, e nel 1896, ma questi gatti blu duri non si adattavano alle convinzioni dei giudici sui gatti siamesi e scomparvero nel 1901. Uno dei primi gatti ad essere importato, vina, di proprietà dell'allevatrice russian-blu MRS. Constance Karevkosse menzionato in The Book of Cats di Francis Simpson, presumibilmente ha prodotto un gran numero di gattini siamesi. Un altro, il gatto siamese blu di Gaspogi Spearman, di nome Namnoy, fu squalificato come siamese, ma accettato nella classe russa o in qualsiasi altra classe blu, in cui vinse il primo posto nel 1896. Korat è apparso per la prima volta negli Stati Uniti negli anni 50. Nel 1959, Cedar Glen Kennell fu il primo a introdurre negli Stati Uniti una coppia di Korat per la riproduzione. Un maschio di nome Nara, e una femmina di nome Darra. Nel 1966, il gatto Korat fu ammesso allo status di campionato grazie agli sforzi di un allevatore del Maryland. Aspetto? Il gatto Korat ha un colore unico che nessun'altra razza di gatto ha. È definito blu con una punta argentata ed emette un'aura, o un effetto luccicante. I tailandesi descrivono questo colore come grigio pioggia e l'effetto argentato come schiuma di mare. Il colore assorbe la luce creando un effetto alone. È un cappotto unico, corto e aderente. Il corpo è di taglia media, muscoloso, flessibile, dà l'impressione di forza, ma non massiccio. La parte posteriore è convessa. Le zampe sono proporzionate al corpo, di media lunghezza, muscolose, le zampe sono ovali. La coda è di media lunghezza, spessa alla base, si assottiglia verso una punta arrotondata. La testa ricorda la forma di un cuore, gli occhi sono ben distanziati. La sezione convessa del sopracciglio conferisce alla linea superiore del muso la forma di un cuore, e le linee morbide su entrambi i lati del muso finalmente formano la parte inferiore del cuore. Nessun pizzico. Il naso è proporzionato di profilo, con una leggera depressione tra la fronte e il naso. Il ponte del naso è leggermente convesso sopra il naso, come un leone. Il mento e le guance sono ben sviluppati. Le buone proporzioni del profilo sono importanti. Un mento né troppo largo né troppo appuntito dovrebbe essere debole. Le orecchie sono grandi, le punte sono leggermente arrotondate, larghe alla base, attaccate alte, il lato interno è ricoperto da poca peluria, il lato esterno è ricoperto da folto pelo. Gli occhi sono rotondi, spalancati. Appare molto grande rispetto al muso. Il verde brillante è preferito, l'ambra è consentita. Il pelo è sottile, corto o di media lunghezza, lucido e fine, aderente. L'unico colore ammesso dalla norma è il glu con punte argento. Tratti caratteriali distintivi. Il carattere dei gatti della razza gatto corata è morbido, vivibile, sono fortemente attaccati agli umani e vanno d'accordo facilmente con i compagni, così come con i cani, se non cercano di far loro del male. I corat sono piuttosto loquaci. Sebbene non siano caratterizzati da miagolii forti, fanno molto le fusa ed emettono suoni simili al tocco silenzioso, specialmente quando comunicano tra loro. I corat non sono inclini a saltare e arrampicarsi, piuttosto preferiscono rimanere sul pavimento. Non hanno paura dell'acqua, e si lasciano lavare con calma. Giocoso ma attento. Non tendono ad esplorare attivamente lo spazio. I corat non tollerano il rumore, il trambusto, l'attività eccessiva e un brusco cambiamento di scenario. Il rumore improvviso o prolungato può spaventarli e portarli allo stress. Sia i gatti che i gatti della razza gatto corat sono fortemente attaccati ai gattini. I gatti partecipano attivamente alla cura della cucciolata. I gatti sono madri amorevoli, premurose e ordinate, accettano molto facilmente i gattini di altre persone per l'educazione e l'alimentazione, sia la loro che qualsiasi altra razza. Salute. In rari casi, i gatti di questa razza hanno disturbi neuromuscolari. In alcune linee della razza gatto corat, soprattutto in presenza di consanguineità, si verificano malattie ereditarie come la telosteogenesi di tipo 1 e la gangliosidosi di tipo 2. Prezzo e come acquistare correttamente. I gattini corat sono un acquisto costoso. Raramente vengono acquistati per piacere. I gattini vengono acquistati per l'allevamento e la vendita futuri. I principali asili nido si trovano in Thailandia, il resto in America e in Europa, ma non ce ne sono molti. In molti paesi non ci sono vivai ufficiali di corat. I prezzi di corat partono da 500 dollari a 1000 dollari. Il prezzo è dovuto alla rarità della razza, e alla difficoltà nella selezione dei partner. Un acquisto così costoso deve essere accompagnato dalla documentazione necessaria. Studia attentamente il passaporto veterinario, il certificato di vaccinazione, e i pedigree dell'animale. Senza di loro, il gattino non ha valore e non è adatto alle mostre. Dopo aver studiato la documentazione, è necessario valutare l'aspetto e le condizioni fisiche del gattino. Cosa cercare? La pancia del gattino dovrebbe essere arrotondata, ma non gonfia. Gonfiore significa problemi digestivi o vermi. Lo stato della bocca. Il colore interno della bocca di un gattino sano è rosa pallido, senza un odore sgradevole. Apertura anale. La condizione sotto la coda non dovrebbe essere bagnata o con peli arruffati. Questo indica diarrea e debolezza. Il corpo dell'animale deve essere pulito, liscio, senza tumori e ferite. La condizione generale di un gattino sano è giocosa e attiva. Ma, se il bambino si è appena svegliato, potrebbe essere un po' letargico. È meglio prendere un gattino dai tre mesi di età, che viene nutrito con latte materno, il che significa che ha ricevuto tutti gli anticorpi e l'immunità necessari per l'età adulta. Vale la pena prestare attenzione alle vaccinazioni richieste per una determinata età di vita. Allevamento. L'allevamento dei gatti Corat è un'attività laboriosa e costosa. L'accoppiamento interspecifico del Corat è severamente proibito e trovare un partner è problematico. Linea di fondo. Corat è una razza di gatto a pelo corto. Allevato negli Stati Uniti nel XX secolo sulla base di gatti importati dalla provincia di Corat, o Nacon, Thailandia. Corat ha un corpo flessuoso e muscoloso con una schiena un po' arcuata. La testa è a forma di cuore con un uso arrotondato e una leggera deviazione alla base del naso. Le orecchie sono grandi e attaccate alte. Gli occhi sono grandi, rotondi, leggermente sporgenti, di colore verde, l'ambra è accettabile nei giovani. Il pelo è sottile, lucido, aderente, il colore è blu, le estremità dei capelli sono argentate. Il personaggio è testardo. Il Corat è ancora una razza unica che molti devono ancora conoscere. Grazie. 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 Grazie.